Finalmente dopo otto ore ci stiamo ritirando a casa. Ma l'ho capito. Ci stiamo ritirando a casa dopo otto ore. Come a casa? Non siamo in l'albergo? No. Apri. È casa? È casa. Casa dolce casa. Ah, è qua? È così qua. Benvenuti in casa con l'opo. Ah. Ah. Ah.